Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, certo mica potrei essere vecchio. Come avrete sicuramente visto dalla copertina, oggi apriremo la seconda metà delle Woodland Egg, quindi se non avete visto ancora la prima parte dove apriamo le prime 25, ve lo lascio qua. Per una questione di tempistiche ho diviso il video, schiudo 50 uova, perché sennò veniva veramente un video troppo lungo. Quindi oggi apriremo, è la seconda parte, possiamo procedere, andiamo, come l'altra volta le ho portate tutte all'ultima missione, quindi andiamo a prenderci l'acqua, le ciambelle, le mele d'oro e ci rivediamo qui. Ok ragazzi, in diretta è appena arrivata una missione all'uovo, anzi io farei una cosa, ne metterei già un altro, questo lo mettiamo tra i preferiti e ne equipaggiamo già un altro, così se dovesse uscire un'altra missione noi iniziamo a prenderle tutte. Quindi, perfetto, mettiamo anche un altro uovo, così già ci facciamo tre uova subito subito, perché ora esce quella che devono dormire. Ah sì, vi stavo dicendo che ho preso sia l'acqua, il mangiare e le mele d'oro, quindi adesso andremo a fargli fare a quest'uovo la missione per dormire, all'altro quella del campeggio e all'altro quello per mangiare, praticamente schiudiamo tre uova così. Premette bene questo video, siamo iniziati proprio, magari non dovrò editare un video di un'ora e mezza per una volta. Allora, facciamogli fare la ninna, la facciamo pure noi, perché come vi ho detto sempre, vi dico sempre in ogni mio video, io mi metto piccola quando devo far schiudere le uova, perché comunque faccio le stesse missioni che faccio fare al pet e guadagno il doppio dei soldini, quindi siccome devo comunque farle queste cose, che cos'è, che cos'è, che cos'è, guardate così a sorpresa. Oh, una volpe, va bene dai, non è male, non è un rospo, quindi già va bene. Allora, quella è che aveva la missione del campeggio? Eccola. Ragazzi, ci siamo? Si sta per schiudere? Ci siamo, me la sono chiamata comunque, me la sono chiamata. Ma mi sono dimenticata di dirvi che, adesso che siamo ancora all'inizio, scrivete sotto nei commenti quanti pet leggendari sono usciti secondo voi. Andiamo a equipaggiare un altro uovo, perché tra un po', se non mi sbaglio, uscirà la missione della doccia, ma le sono a memoria praticamente. Si che è ancora notte, però va bene. Se no, allora facciamo una cosa, vediamo, con lo sprezzo del pericolo. Gli diamo da mangiare a questo. Veloci. E ci mettiamo un nuovo uovo. Che cosa sarà questo? No, è uscita la missione della doccia, lo sapevo io, lo sapevo. Ce la siamo persa. Pazienza. Ci mettiamo casetta qui, così facciamo la doccia almeno noi. Ok, in realtà sta facendo la missione della scuola, ma gli è arrivata anche la missione dell'ospedale. Quindi direi di fare quella dell'ospedale, tanto è sempre gialla, quindi vediamo. Ci siamo. Che cosa sei, tu? Cosa sei, cosa sei? Non iniziamo, eh? Non iniziamo. Qui vogliamo leggendario. Qui vogliamo leggendario. Guarda, non poteva arrivare la missione dell'uovo a me, no. Mi sono persa l'uovo, ragazzi. Non so più dove è l'uovo. Dove sei, uovo? Eccolo. Ma dove sei andato? Senza dirmi niente, ma io non lo so. Questi uovi di oggi. Tutti che vogliono mangiare. Tutti affamati. Mannaggia che gli sono uscite tutte e due le missioni a lui. Tiè, mangia sta ciambella per favore. Vediamo cosa sei tu. Tieni da bere. Vediamo se nel giornadino ci porta fortuna di questa casa. Oh, ma seriamente? Ma sei bloccato? Cos'è? Ma basta. Ma basta. Però c'era da aspettarsene. Comunque, ragazzi. Io me l'ho aspettato. L'ultimo video è andato troppo bene. Sì, troppo bene. Per i nostri stamberg. Ci siamo abituati troppo bene. E quindi oggi lo veniremo. E' arrivata una missione. Andiamo a fare la doccia. Andiamo a fare la doccia. Ciao. 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 Ci siamo? Una volpe. Una volpe. Una volpe. Vediamo questo. Oh no. Ci è uscita un'altra missione. Ma perché vuol dire che allora... Aspettate. Perché questa allora deve mangiare e ce n'è un altro che deve dormire. Quindi abbiamo due uova che si schiuderanno subito. Questo cos'è? Che stress. Che cosa uscirà? Dai, per favore. Qualcosa di... Un'altra raro almeno. Che ci riescono sempre solo quelli. Vuole bere. Ma allora bevi. Nel frattempo andiamo. Oh no. Ah sì sì. Scappiamo, 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 scappiamo. Vediamo cosa ci raggiunge. Cosa ci raggiunge secondo voi? Un uovo. Mamma mia, basta. Basta. Non li sopporto più. Allora, ci mettiamo un altro uomo. Mi sono raccolta un paio di uova. Vediamo. Uova, uova, uova. Leggendario, leggendario, leggendario. Abbiamo cambiato vasca. Vediamo se questa vasca... Leggendario, leggendario. No, deve mangiare, uffa. Una missione versa. Vabbè, leggendario almeno. Ci siamo ragazzi, stiamo arrivando agli ultimi. Nel frattempo avrete visto tutto. Una carrellata di uova che si sono schiuse. Dario ci sta portando fortuna per questo prossimo uovo. Vediamo se riuscirà a farci schiudere un leggendario. Questa qui è la danza delle uova fortunate. Dario appena non esce. Mi ha consigliato di metterlo a dormire così magari la missione arriva. Vediamo. Ma come, è arrivato al suo. Dario, è sbagliato. Doveva arrivare al mio uovo, non al tuo panda. Vediamo se questa attesa ci porterà un leggendario. Vai Dario, incrociamo le dita. Cos'è? Dov'è? Una salamandra. Va bene, dai. Va bene, dai. Ultra raro, va bene. Allora, adesso ne schiudiamo un altro. Quindi, ultimamente abbiamo sempre degli assistenti durante, durante, durante che registriamo i video. Oggi c'è Dario. Ma Dario è scomparso però. Dov'è Dario? Dario? Dove sei Dario? È sparito. È sparito. Non mi ha visto forse che sono uscita. Mettiamoci qui in cima. E diamo da bere al nostro pet. Al nostro uovo. Dario ci cerca. Siamo qui. Vediamo. Vediamo. Incrociamoci. Cosa sei? Un'altra? Ma quante salamandre. Quante salamandre. Mamma mia. Allora, rimettiamo un altro uovo. Veramente un sacco di salamandre. Andiamo. Andiamo qua dentro. Così. Ah, devi fare la doccia. Devi fare la doccia. Dobbiamo ritornare a casa. Vabbè, ma nel frattempo vediamo un attimino qua cosa c'è. Mi sa che c'ho tutto. Mi sa che c'ho tutto. Che carino. Il cappellino da cuoco. Ma nel dubbio lo compro. Anche se c'è la doccia è carino doppio. Andiamo a casa. A fare la doccia. Poverino. Dario non riesce a starci dietro. Via, via, via. Ma ci ha visto che siamo usciti, no? Dove sei? Vieni, che devo andare a casa. E poi non capisci dove sono. Deve andare a giocare. Ecco, Dario. Vieni. Andiamo. Possiamo anche mettere la casa qui. Così possiamo fare le missioni vicino. Ok? E andiamo qui al parco giochi. A fargli fare questa bellissima missione. Dai ragazzi che abbiamo gli ultimi. Vediamo quante uova ci restano. Mamma mia, ma sono le ultime quattro. Non me ne ero accorta. Quindi adesso, d'ora in avanti, il video sarà parlato. Perché diciamo che nel mezzo vi faccio vedere un po' in velocità. Perché, come sapete, viene un video eterno. Ma nelle ultime uova, però, possiamo schiuderle assieme parlando. E poi adesso abbiamo pure l'assistente, quindi. Allora, mettiamoci sull'altalena. Voglio andare sull'altalena. Ci porterà fortuna. Dai uovo. Mamma mia, mi viene la nausea. Tu, 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 tu. Si sta schiudendo? Che cos'è? Cosa sei? Ma basta! Basta! Non ne posso più! Non ne posso più! Non ne posso più! Mentre che aspettiamo l'altra missione, andiamo a farci la doccia noi. Così ci guadagniamo i soldini. Non so se ci fate caso, comunque. Quando io... Anzi, adesso ve lo scriverò qui. Perché magari non ci avete fatto caso. Quanti soldi avevo a inizio video? E quanti soldi ho adesso? Perché comunque... Ah, vabbè che ho pure comprato una cosa. Vabbè, però vi metto subito la differenza effettivamente su quanto ho guadagnato. Dario ha deciso di mettersi piccolino per farsi la doccia. Magari porta fortuna. Sono le ultime due uova. Dai ragazzi, l'ultimo uovo... Vediamo com'è questo? Semplicitino. L'ultimo uovo lo facciamo schiudere a Dario. Ah no, ce n'è altre due. Ce n'è altre due. Quindi, ok. Allora, le schiudiamo assieme. Le ultime due. Le ultime due uova le schiuderemo assieme. Ah, in realtà noi abbiamo già una missione della scuola. Però aspettiamo che ne abbia una anche lui. Vabbè, lo aspettiamo... Eccolo, eccolo lì sotto. Noi abbiamo fatto prima. Andiamo! Ok. Queste qui, allora, saranno le ultime due uova che andremo a schiudere. Deve fare pure il campeggio. Lui lo sta già facendo bere. Io ci metterò un po' di più, quindi... Ah, ma non doveva bere la sua? Ma aveva detto che doveva bere. Non doveva bere. Doveva bere lui, forse. Ah, dai, facciamoli dormire. Dai, lo sta facendo dormire. Vediamo. Secondo me finisce la missione prima della scuola al mio. Quindi, adesso, queste sono ufficialmente le ultime due. Vediamo. Prima il mio si schiude. Oh, un altro ultra raro. Va bene. Non mi lamento. Vediamo, Dario. Una volpe. Va bene, va bene. Non è andata male. Non è andata male. La puoi tenere. Regaliamo la volpe anche a Dario, perché giustamente ci ha fatto l'assistente. Quindi, ringraziamo anche Dario per averci aiutato. E abbiamo finito anche questo video. Se vi è piaciuto, ricordate di lasciare un mi piace. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo, con un prossimo assistente. Perché per adesso, praticamente, troviamo assistenti in ogni video. Ci vediamo. Ah, se non avete ancora visto gli altri video, andateli a recuperare. Alla prossima. Ciao, ciao.